Il Bulletproof Coffee è diventato incredibilmente famoso per l'impatto che ha sui tuoi livelli di energia, sulla tua concentrazione, sul tuo stato bruciagrassi e perché sopprime incredibilmente il senso di fame e di voglia di mangiare. Gli ingredienti chiave sono tre, caffè di elevata qualità, olio MCTC8 o meglio Brain Octane Oil che aumenta di smisura il tuo livello bruciagrassi e produce molto più velocemente delle supermolecole chiamate chetoni. Ed infine abbiamo il burro giallo grass-fed. Perché grass-fed? Perché questa tipologia di burro è ricca di grassi salutari e di vitamine solubili nei grassi. Se non ti piace il caffè puoi tranquillamente sperimentarlo con il tè, con il cacao amaro o addirittura con la curcuma. Per gli ingredienti e la ricetta trovi tutto quanto nella descrizione oppure nel video che ti linko qui sopra dove spiego nel dettaglio gli ingredienti e tutta la ricetta completa del Bulletproof Coffee. Ora vediamo quali sono i vantaggi e gli incredibili benefici di questa bevanda. Se ti è già capitato di bere una tazza di Bulletproof Coffee avrai sicuramente notato quali sono gli impatti sulla tua energia e sulla tua concentrazione. Ciascun ingrediente ha già un grande beneficio ed è potente di suo, ma quando messi insieme lavorano in maniera sinergica per aumentare ancora di più gli effetti benefici. Ti ricordo che per gli ingredienti e la ricetta trovi tutto in descrizione o nel video che ho fatto apposito Bulletproof Coffee ricetta. Ora ti spiego come funziona e quindi è perché è così famoso il Bulletproof Coffee. Studi dimostrano come combinare olio MCTC8 e liquidi incrementino il tuo stato bruciagrassi. La caffeina di per sé già aiuta il tuo corpo ad utilizzare più grasso per produrre energia ed è per questo che l'accoppiata caffè e olio MCTC8 è veramente formidabile. Infine l'accoppiata burro grass fed e olio MCTC8 aiuta a rallentare l'assorbimento della caffeina donandoti energia stabile per tutto l'arco della mattinata. Analizziamo nel dettaglio ogni singolo ingrediente. Per quanto riguarda il caffè ad elevata qualità cerchiamo di fare sempre il nostro meglio. Esiste anche la marca Bulletproof Coffee e quello ovviamente è il miglior caffè ma è molto difficile da reperire. Se vogliamo utilizzare altro caffè dovremo prestare molta attenzione a questi fattori. Deve provenire da una singola origine. Deve essere coltivato ad elevate alture. I chicchi devono essere arabica e deve essere coltivato in piccoli lotti. Rivedo facciamo sempre quello che possiamo e nel nostro meglio. Già un buon caffè italiano è molto meglio di molti altri caffè in commercio. Il caffè è ricco di nutrienti essenziali come i poliferoli e antiossidanti. È stato dimostrato che migliora la memoria, la concentrazione e che riduce il rischio di infarto e ictus. Il burro giallo grass fed è quello che dà al Bulletproof Coffee la sua consistenza cremosa. Burro giallo grass fed significa da mucche che sono state allevate al pascolo perché mangiano erba. Questo significa che è ricco di grassi salutari e di vitamine solubili nei grassi come la A, la E e la K. Queste vitamine infatti nutrono il tuo cuore, il tuo cervello, i tuoi occhi, la tua pelle e molto altro ancora. Arriviamo adesso all'ingrediente principale. L'olio MCT C8. E qui avvengono le magie. L'olio MCT C8 aumenta a dismisura il tuo stato brucia grassi e produce queste supermolecole chiamate chetoni. Bruciare chetoni per produrre energia al posto del glucosio aumenta il tuo stato brucia grassi e riduce drasticamente l'infiammazione. È chiaro come dico sempre che il tuo corpo non utilizzerà questi chetoni se tu ogni mattina assumi zuccheri semplici e carboidrati. Ecco perché l'abbinata del Bulletproof Coffee è eccezionale con una colazione salata o meglio ancora abbinato al digiuno intermittente. Ma che cos'è l'olio MCT C8? La risposta più semplice è una forma purificata di grassi saturi. Ancora meglio sono trigliceridi a catena media. Infatti MCT sta proprio per Medium Chain Triglicerid. Questo è derivato al 100% dall'olio di cocco ma ci sono diverse tipologie di olio MCT. Possiamo trovare in commercio C6, C8, C10 e C12. La forma più pura, più efficace e più rapida è la C8 costituita esclusivamente da acido caprilico. Tantissime marche che si trovano in commercio sono un miscuglio di queste tipologie. Ma ovviamente non sono efficaci allo stesso modo. Infatti l'olio MCT C8 che è 100% C8 cioè con 8 atomi di carbonio è 4 volte più potente e più efficace del normale olio di cocco per produrre chetoni e per aumentare il tuo stato bruciagrassi. Un altro fattore importante è che è completamente in odore e in sapore. Quindi lo può utilizzare benissimo nel caffè per fare il bulletproof coffee ma anche per condire l'insalata e per cuocere gli alimenti perché tiene benissimo le alte temperature. I suoi benefici principali sono che dà energia, lucidità mentale e concentrazione e che sopprime la fame. La prima perché l'olio MCT C8 viene convertito direttamente in chetoni e questi possono essere utilizzati dal tuo cervello per produrre energia. La seconda è perché i chetoni sopprimono la grelina ovvero l'ormone della fame e quindi questo ti aiuterà a mangiare quando è il momento e a non mangiare quando non è realmente necessario. Cioè quando non ne hai realmente bisogno. Questo ovviamente si tradurrà in una perdita di peso se c'è da perdere peso in termini di dimagrimento. Ultima cosa importantissima, vacci piano. Attenzione per il dosaggio. Il tuo corpo si deve abituare quindi parti pian piano da mezzo cucchiaino da caffè a un cucchiaio barra massimo due cucchiai al giorno ma tutto gradualmente. Se dopo aver preso bulletproof coffee senti un po' di fastidio allo stomaco e allo intestino significa che la prossima volta dovrai utilizzarne un po' di meno. Abituati e poi potrai aumentare le dosi sempre pian piano. Ah mi raccomando se qualcuno non ti riconoscerà più perché sarai in piena forma, sprizzerai l'energia da tutti i voli e perché sarai più snello e scattante non prendertela con me ma con dei vasti. L'inventore del bulletproof coffee. Se ti è piaciuto questo video clicca qui sotto sulla campanella, iscriviti al mio canale e seguimi per ricevere nuovi aggiornamenti e sempre nuovi contenuti gratuiti in termini di fitness, wellness, alimentazione e stile di vita. Se ti piace fare allenamenti di gruppo, se ti piace avere nuove informazioni, partecipare a sfide, challenge per metterti in gioco e avere ulteriori contenuti e notizie e informazioni per essere tu stesso a conoscenza del tuo benessere e per migliorare sempre fisicamente e a livello di cultura personale. Qui sotto trovi i link con tutti quanti i miei canali social. Iscriviti per seguirmi e per partecipare al challenge e allenamenti di gruppo. Ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video.